Ore di lavoro per i vigili del fuoco impegnati sul monte Grappa, un chilometro sotto il rifugio Bassano in località Forcelletto, per la salavina che si è staccata domenica pomeriggio dalla dorsale, finendo sulla strada Cadorna. 50 metri di lunghezza per un'altezza di 4 metri. Un dispiegamento di uomini e mezzi, sul posto anche il soccorso alpino, per scongiurare che qualcuno fosse stato travolto dalla massa di neve. Solo in tarda serata è stata riaperta la strada, oltre un centinaio le persone che erano rimaste bloccate a monte. Escursionisti che hanno dovuto trovare riparo al rifugio, qui è stata data autorizzazione di apertura serale in via straordinaria, finché non è stato aperto un varco per far defluire quindi i tantissimi che avevano approfittato della bella giornata per salire sul Grappa. Difficoltà per i vigili del fuoco, dato che la neve era bagnata e difficilmente cumulabile e trasportabile. Torna più che mai necessaria la raccomandazione a prestare massima prudenza quando si decide di andare in montagna, perché viste le temperature in innalzamento degli ultimi giorni si possono verificare importanti distacchi di neve come quello di domenica pomeriggio.